Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, intervenuto nei giorni scorsi alla festa degli auguri del Lions Club, ha avuto modo di stilare un bilancio dell'attività amministrativa svolta nel corso dell'anno. Tra i provvedimenti in cantiere per il nuovo anno, il primo cittadino ha sottolineato che... Sì, un anno altrettanto impegnativo, però sicuramente partiamo col piede giusto, perché i primi giorni del 2019 andiamo a inaugurare il distretto sanitario, è un'opera attesa da oltre 23 anni, da tutti i cittadini di Montesilvano, ma da tutti i cittadini dell'area Vestina, è un punto importante e poi continueremo con una serie di inaugurazioni, dal silo di Via Sospiri fino alla scuola elementare di Via Adda, la piazza di Montesilvano Colle che sta per rifarsi il look, l'antistadio di Via Senna, Via Saragat e poi tante altre iniziative come sistemi antiallagamento, davvero tutte iniziative di cui il territorio aveva bisogno davvero da tanti anni. Tra gli ospiti della serata, il questore di Vescara Francesco Misiti ed il pianista-compositore Michele Di Toro, che ha regalato al pubblico presente una suggestiva e coinvolgente esibizione al pianoforte. I soci, infine, hanno voluto ricordare con affetto Lidia Menozzi, moglie del socio fondatore Domenico De Patre, venuta a mancare qualche giorno prima dello scorso Natale.